Ci ha raggiunto i nostri studi, avete letto su tutti i giornali, cuore già rossa, Antonello De Pierro, il nuovo inno della Roma. Eccolo qui, un applauso a Antonello, sta qui i nostri studi. Buonasera. E ci ha raggiunto anche Giorgio Ceccarelli, ci parlerà fra poco di alcune manifestazioni dell'ARAC. Siamo ancora insieme 20 minuti, già li sono organizzati e Antonello De Pierro ci canterà il nuovo inno della Roma. Attenzione, registratelo, vi do qualche secondo di tempo. Prego, Antonello vai. Buonasera. Le bandiere verso il cielo, ventolano già, come bella giallorossa, tutta è la città. E' domenica il sole, ci saluta di lassù, i suoi raggi sopra il tevere che scorre là. Sotto i ponti e tutti intorno ci sei tu, bellissima città. Che vive questo giorno, giallorosso il tuo colore, giallorosso tutti intorno, giallorossa la tua squadra, giallorosso il nostro cuore. Giallorossa questa Roma, nostro grande amore, bandiere e sciarte al vento, quanta gente che cammina. Mi riempie d'emozione, la domenica mattina, ed un grido rassetto, si leva già nell'aria. E' l'urlo della curva, che si alza e va. Vola lontano e l'ogni cuore, giallorosso scalderà. Vola lontano e 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 il giallorosso nascerà. Va tutta la curva, solo Roma, sempre Roma, candena. Roma nell'aria, Roma nel vento, Roma nel cuore, tre sera. Bravissima Antonello. Grazie mille. Io sono Antonello all'atto, speriamo che tu possa avere la fortuna di Antonello Venditti con il suo inno alla Roma. E' la fortuna che ha portato Antonello Venditti poi alla Roma, infatti tu dicevo Scudetto. Io veramente quest'anno lo sto portando molta fortuna, però nelle ultime settimane sta andando molto meglio. Da quando è uscito il tuo disco? No, il disco è veramente uscito fino a ottobre. Ma l'ho letto sui giornali adesso, stai partendo in pubblicità in questo momento? Sì, no, abbiamo fatto la pubblicità, però continua naturalmente la promozione. In bocca al lupo ci vediamo che c'è anche l'altra molto bella, l'altra facciata, la vediamo un'altra domenica. Grazie, un applauso ad Antonello. Passiamo subito a vedere il filmato del basket.